ciao ciao amici sono il carletto e come sempre questo è il mio canale dove vado a recensire statui doll action film cavaliere dello zodiaco mit cloth robot show goking goking cash flow tutto quello che il mondo del collozionismo e oggi sono qui col mio mitico cuginetto antonio quindi se come dico sempre tutti i video perché lui è anche bravissimo mi sta prestando il materiale per fare la recensione oggi perché tutto quello che vedete di dragon ball è suo e io per correttezza giustamente gli faccio anche pubblicità quindi se siete in zona tre bisacce quindi nel cosentino alto ionio qua siamo al mare bellissimo però ci sono i propri contro perché stiamo morendo anche col condizionatore a 16 gradi perché oggi abbiamo si sopra ragazzi 48 gradi ragazzi quindi è impossibile fare le recensioni ma non lo stiamo facendo se siete qua in zona veniterò a trovare nel suo studio che vi fa lo sconto se siete dei collezionisti perché lui è veramente un dentista in gamba e bravo se non io faccio entrare solo collezionisti quindi portate action figure fatemi la foto di action figure iscrivetevi al canale di carletto e sennò non potete entrare allo studio bravo bravo stavate con mal di denti andate da qualcun altro che lui è il dentista dei collezionisti ragazzi quindi se siete collezionisti lui fa lo sconto vi accoglie vi fa passare anche davanti prima rispetto agli altri assolutamente a questa grande passione come noi del collezionismo oggi allora cosa recensiamo anto oggi recensiamo vegeta con lo scalter quindi prima versione del vegeta scesso sulla terra con la sua navicella sempre bandai della linea figure rise model kit come la montata tutta lui giusto si fa anche gli adesivi e tutto quindi niente doppia recensione andiamo a unboxare il vegeta e vi facciamo vedere anche la figura rice 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 come all'interno vista nel dettaglio eccoci qua siamo andati a unboxare vedete il vegeta ragazzi qua un po scomodo farvelo vedere lo scatolo perché vedete devo fare così perché abbiamo veramente un treppiedi farlocco però speriamo di riuscire a fare una bella recensione che la vedete bene sono andate a unboxare quindi il vegeta classico allora vi facciamo vedere le parti che poi non vi facciamo vedere nel dettaglio perché sono inutili sono le mani che sono quattro mani identiche poi abbiamo qua perché questi due pugni a perché tu antonio di staccato qua vedete gli ha già messo le braccia concerte di andata a levare le braccia normale col pugno e gli andata a mettere quelle concerte poi abbiamo abbiamo lo scouter qua integro abbiamo uno qua uno già che indossa vedete ma ve lo faccio vedere bene nel dettaglio perché ha già i numerini stampati sopra la coda e poi uno dove col pugno spacca lo scouter per la rabbia lo butta per terra allora quindi andiamo a vedere nel dettaglio le cose fondamentali allora i volti che altro per te questo quindi è fatto meglio rispetto al magine vegeta anche perché è uscito dopo se non sbaglio del magine vegeta o comunque sono usciti contemporanea ma per me è fatto molto meglio questo gusto mio esteticamente molto più bello ha più accessori poi più cose ragazzi anche avete visto l'altro non ha neanche le parti delle spalle e l'hanno topato forse eppure vedi ha preso quel prezzo la come posso vedere ha ragione antonio questo vegeta qua è fatto molto bene vedete anche l'espressione dei visi molto bella poi adesso vi facciamo vedere quella particolarità vedete qualora intanto guardate che qua non è che non ha la coda ce l'ha mai arrotolata vedete l'hanno fatta così arrotolata alla vita poi vediamo questa parte che non ha vedete il magine vegeta va a coprire comunque gli snodi e la sua armatura da saian bravo anton quindi va a coprire gli snodi e quindi sicuramente la rende molto migliore rispetto vedete poi questa cosa qua guardate vedete che lo scouter ai numerini ha anche la croce vedete perché all'interno di questa figure gli hanno messo praticamente un sacco di scouter questo quello rotto e un altro senza scritta giusto quindi ben tre accessori è dotata molto bene stati vedete lui gli è andato già mettere le braccia concerte perché questo vi diremo la verità era già in vetrina ce l'aveva esposto insieme ad altre cose la cosa più iconica di leggerla sicuramente si era apposato il concetto vedete guardate il mezzo busto come rende come è fatto bene gli volevo far vedere anche un'altra cosa che comunque abbiamo anche questa cosa non ve l'avevo fatta vedere abbiamo la coda vedete aggiuntiva possiamo staccarli quelle arrotolate andare a mettere la codina classica normale sarà comunque sicuramente meglio del majin vegeta quello è vero però devo dire qua tu gli hai messo a questo vegeta la faccia col ghigno che c'aveva anche il majin vegeta visto quindi questa è carina questa col ghigno vedete perché esprime di più vegeta il suo essere arrogante il suo essere fiero essendo il principe dei sei anni come pensate il figlio del grande della vegeta è ovvio che abbia questa questa espressione fiera comunque dai questo promosso sicuramente meglio del majin vegeta assolutamente sì diamo adesso a vedere il pod che è antonio gentilmente ci è andato a costruire perché questa è una figura ice vediamo allora vediamo come farlo vedere lui viene via vegeta allora anche lui eccolo qua però si è staccata la testa è diventato se è decapitato se è decapitato vediamo qua se riusciamo a ok è proprio incastro questa non mi piace è una statica tu non gli hai messo neanche gli occhi qua perché la cosa era complessa l'ha lasciato pure ciecato c'è lo scouter ma senza l'occhio sotto ragazzi vedi no perché come vedi ha gli occhi chiusi sta dormendo eh ma non c'aveva l'occhio chiuso no 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 questa allora è una pecca perché vedete no ma sembra c'è lui sta riposando però dovevano fare sta riposando perché quando viaggia nella navicella lui si riposa ma dovevano fare tipo le ciglia no comunque questa ragazze nonostante una figlia quelle sole sopra c sono chiuse è chiuso proprio secondo me lui si è dimenticato ad attaccare qualche pezzo non ce l'ho dimenticato ragazzi non ce l'ho dimenticato comunque vediamo il pod all'interno cavolo bellino eh quanto ci hai messo a montarlo Anto guardate guardate anche la se riesco a farvi vedere la trasparenza di quel del vetro del pod guardate che è bello infatti adesso glielo facciamo vedere questa è la basetta del pod guardate e c'ha questa è la cupola del pod che è pure trasparente vedete si vede l'abitacolo rimetti Vegeta Anto adesso vi facciamo vedere questa cosa qua vediamo così forse riesco a farlo vedere così lui sta viaggiando questa navicella quindi sta riposando non è spesso si vede Vegeta eccolo così si vede bene ragazzi lo vedete all'interno della sua navicella dai andiamo a vedere un secondo girare e concludiamo eccoci qua ragazzi come abbiamo visto abbiamo messo Vegeta l'SH figure e quella rise una affianca all'altra anche con il pod Anto mi stava facendo rendere conto di una cosa che giustamente volendo possiamo andare a mettere anche l'SH figure all'interno del pod però cosa è al posto della figura statica che c'è al posto la figura statica però come potete vedere la come potete vedere la scala la scala del come si dice delle due figure è diversa cioè questo piccolo cioè questo all'interno è più grande si è leggermente più grande la figura statica perché è fatta apposta per il pod però volendo si può adattare anche l'SH senza grossi problemi è un po' più piccolina ovviamente l'SH ma secondo me non ci sta neanche male no non ci sta male non ci sta male secondo me no vediamo se una cosa dai per fare una cosa così che non sappiamo tutte e due dici che si riesce a far sedere eh eh devi piegarla direi paura che si rompa no no la puoi fare la puoi fare tranquillamente no appoggiamo non solo con cautela la puoi fare con cautela ragazzi adesso qua gli tieni vediamo in diretta ragazzi dove le vedete queste cose qua allora proviamo vediamo se ci sta però dovrei piegarle ancora di più le gambe eh no devi togliere il coso mi sa cosa il no forse l'armatura ah perché no sai perché perché lui non si piega in avanti hai capito andiamo bisogna smontare l'armatura ragazzi si vedete ho tentato se bisogna allora se bisogna lievarli praticamente tutte queste parti qui e le riesce a far stare perché quelle guarda qua vedono legate no perché anche queste delle spalle vedete la figu spostiamo è una cosa un po particolare che però almeno dai viene diversa ma la facciamo sempre uguali guardate qua anche se lui come dimensione più grande però vedete la spallina mi sembra più piccolo no sì sì forse questa qua è più ma anche dell'armatura sono le aletti vedete queste come sono sono bravo però qui mi sembra che si possono anche smontare la retta vedi qua sono piccole e piegate all'interno invece qua sono dovresti smontarle dovresti proprio smontarle si può quindi questo mettere all'interno del pod togliendo tutte le parti però togliendo tutte le parti e quindi non non è fattibile è meglio lasciare il suo nel è fatta apposta quindi direi di sì andiamo a concludere dai amici giunge al termine anche la recensione di questa sh figu arts di vegeta con lo special bonus della della figura s del pod che dire sicuramente questo qua come abbiamo detto di antonio meglio della versione che ha preso più valore del magine vegeta ha degli optional in più e più dettagliata versioni diverse sono persone ovviamente completamente diverse però ci piace di più questa qua è molto più bella lui ci ha fatto vedere anche come ha costruito il pod il pod anche è bello e si trova ancora mi diceva a prezzi abbastanza umani è un plasticone componibile mentre quello che è arrivato a prezzi esorbitanti e quello di di trance la navicella di trance anche essendo un plasticone però diventata parla molto meglio di questa volta meglio grande più grande prezzi quindi sono schizzati alle stelle allora come dico sempre se vi è piaciuta la recensione di vegeta like al video pollice alzata attivate la campanellina così potete vedere le cose che vi sono scappate poi ve le trovate e quindi è fondamentale anche questa cosa ma ancora più importante è iscrivetevi al mio canale andando in alto quando esco io col guantonio solidità non scliccate lì e poi iscriviti quindi iscrivetevi mi raccomando il mio canale e come ho detto anche inizio recessione sto facendo in tutte queste recessioni se vi capita che siete nel cosentino a trebisace in zona mare e vi volete fare una settimana di vacanza e passate a trovare anche antonio al suo studio così vi da anche una controllata ai denti ciao ciao ciao